Ciao a tutti ghiacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della project zone 3 della serie delle sette Signori quest'oggi inizieremo il nostro percorso che ci porterà ad avere un mi network che dovrebbe dare un po' una svolta a livello di inventario sicuramente, poi anche di crafting e di tante altre cose che possiamo fare La prima cosa che voglio fare è come vedete ho un inventario di 2 full x crystal per la precisione sono gli unici due che ho, perchè gli altri non ne ho craftati, ne ho solo questi e voglio prendere un po' di ferro per fare un charger Il charger serve per prendere il certus quartz e renderlo caricato, ok? Ah guarda mi ha dato anche la achievement flux production In teoria hanno bisogno di energia per funzionare, quindi vediamo cosa c'ha all'interno 1ke, ti dirò, in teoria dovrebbe prendere tranquillamente oddio non so se piglia questo, funziona? funziona anche perchè per mettere la roba dentro è un casino non è che devo mettere un flux cable là dentro in teoria collegarsi si collega, c'è da capire bene dove metterlo perchè lo spazio sta iniziando a scarseggiare e dovrei ampliare un po' di roba prendiamo un po' di cristalli non caricati, non solo 15 certus quartz normali tipo questi in realtà certus quartz dust ne ho un botto, 32 stack c'è da capire posso prendere la polvere e renderla cristalli? bella domanda sembrerebbe di no, che è un peccato sicuramente mi serviranno per fare i pure certus quartz crystal la polverina intendo però io volevo fare qualcos'altro volevo anche avere il resto e quindi non lo so, mi sa che dovrò rimettere la sabbia qua nel setaccio per generare altri nel frattempo se io prendo questi tipo 8 certus quartz cosi e li metto di qua e faccio un passaggio di questo tipo e metto anche di qua i nostri amichetti e faccio così no, troppo basso che è uno più alto anche se non riempie tutto lo spazio ce ne freghiamo per il momento se faccio così dovrebbe iniziare a trasformarlo ah no, lo carica istantaneamente? no, non è istantaneo non vedo differenza però tra l'uno e l'altro infatti questo non l'ha caricato quando è che lo carica? cioè con cosa lo capisci che ha caricato? non me lo dice ah ok contains non c'è un timing preciso a quanto pare ma ne avevo 8 io dove sono finiti gli altri? scomparsi magari servono più di uno per fare i charge vabbè ora capiamo intanto se io prendo 1,2,3 di nether quartz e 3 di redstone salute e vado qui e li metto nella pozzanghera dovrei ottenere i miei pur fluix cosi insomma hai capito voilà fate le vostre cose ciu 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 eh grandi ragazzi ho 6 fluix crystal tutto questo perchè ho bisogno della fluix d'astio va bene e possiamo farne un po' e ci servirà comunque poi ne faremo altra sicuramente andiamo a dormire e intanto iniziamo a ragionare su quello che ci serve per fare questo mi network allora abbiamo bisogno di non tante cose non voglio cercare di farlo il più chiaro possibile non come la stone block che era la prima volta dopo tanto che lo facevo e quindi non mi ricordavo nulla e intanto abbiamo bisogno di un controller anche un solo blocco va bene quindi un emi controller abbiamo bisogno di un emi drive con all'interno le celle di storage un access terminal e dei cavi in teoria questo basta ma l'energia in realtà noi ce l'abbiamo già qua da adattatore quindi o spostiamo l'advanced describer lo mettiamo vicino o ne craftiamo un altro di questo energy acceptor non dovrebbe essere neanche troppo difficile si infatti il crafting è abbastanza semplice e potevo metterne un altro a questo punto perchè voglio mettere qui il mio network allora partiamo controller quindi skystone block i 3 ce l'abbiamo e che l'abbiamo trovati poi engineering processor questo si fa con i diamanti voilà e poi facciamo così così e così e abbiamo il nostro primo processore di diamante che figata ok necessitiamo di un enrichment chamber quindi ho bisogno di uno steel casing con della grey plastic sai che non so se ce l'ho a grey plastic forse questo è pieno ce l'aveva della grey plastic no perchè l'avevo disabilitato però posso farla non è un problema dovrei averne un po' da qualche parte perchè l'ultima volta abbiamo fatto un enrichment chamber beh oddio possiamo provarci l'enrichment chamber l'ultima volta l'abbiamo usato per passare di livello e metterlo qua dentro ma non penso che funzioni sinceramente e infatti anche se lo smelting dovrei metterlo qui funziona? incredibile funziona davvero bene allora un due tre voilà certo non è la cosa più comoda del mondo potrebbe aver senso poi crearne uno apposito ma per il momento ti dirò mi va bene così se non che prendo sempre tutti i materiali che droppa ok ora che ho i miei quattro amichetti ho bisogno solo dello skystone block ti dirò forse questo potrebbe essere un piccolo problema perchè io penso di averlo ma non lo so quindi skystone dovrei averla per forza ho trovato un fottio ecco la skystone quattro pezzettini giusto? posso craftare il mio emi controller? siamo così? no 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 devo cuocerla giusto? ok andiamo a cuocerla e il nostro primo passaggio è stato effettuato abbiamo un emi controller alla grande lo andiamo a posizionare lo posizioneremo più o meno qui abbiamo bisogno anche di emi cables sicuramente per il momento faremo quelli base e per fare bisogno di quartz fiber cioè beh questi ne abbiamo un botto di crash quartz abbiamo davvero tanta 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 e poi flux crystal e questo è il vero problema devo fare un botto di flux crystal quindi ho bisogno di charged charged certus quartz ma è un scioglilingua vabbè del quarzo quarzo caricato quanto quarzo caricato riesco a fare? qui quanto ne ho? 15 1,2,3,4,5,6,7,8 prendiamone 8 facciamo le loro rubettine ah voilà 16 flux crystal alla grande solo 16? no ne avevo già 2 nell'inimentare scusa ne ho messi 8 era 2 per no infatti prendiamo un po' di vetro tipo non lo so quante me ne serviranno prendiamo tipo 18 pezzi di vetro questi andiamo a fare crash quartz in teoria dovrebbe funzionare ok abbiamo 9 pezzi di quartz fiber e posso fare così 16 pezzettini un po' di cristalli me li tengo perchè servono sicuro andiamo a prendere un po' di vibrant alloy ingot da qua andiamo a prendere un po' di questi amichetti qua 12 e andiamo a fare altri cavetti dell'energia perchè dobbiamo collegarla questa energia 19 bastiamo 19 ma mai nella vita non bastano 19 facciamo ne altre ho finito il conduit binder nooo davvero ho finito anche la clay quindi devo prendere un po' di dust e metterla e trasformarla in clay prendiamo un secchiettino d'acqua grazie lo mettiamo qua dentro e no sbagliato tutto alla grande boom ok abbiamo la nostra clay allora se non ricordo male è una cosa di questo tipo forse ho sbagliato la disposizione però dovremmo esserci cercano solo 3 vibrant alloy ingot quindi facciamoceli bastare vediamo se ce la facciamo ho 27 ender energy conduit dovrei riuscire a fare il passaggio che voglio fare cioè da arrivare da qui a lì sotto non dovrebbe essere troppo complicato anzi dovrei farcela easy cioè easy non lo so però dovrei farcela rompiamo un attimino questo così posso passare grazie ho imparato la lezione quindi farò il tunnel alto 3 così posso muovermi ci all'interno devo fare un po' di pietra per poi risolvere il problema dei buchi il sottoscritto beh in realtà non solo perchè è tutto da abbellire effettivamente ci serve da fare un bel processo qua di abbellimento caruccio allora che dite se noi mettiamo qui accanto o sotto no mettiamolo sotto così non si vede neanche e lo colleghiamo qui con un cavo mettiamo qui un mi glass cable flu x andiamo a creare un m e e energy access energy come cacchio si chiama questo coso qua quarts glass dovrei già averlo tra l'altro da qualche parte ah ho il fused quartz sai che non so se va bene sai che abbiamo bisogno proprio di questo specifico va bene andiamo a craftare non è un problema tanto vetro ne abbiamo tanto e possiamo farne tantissimo ok ci siamo ce l'abbiamo lo mettiamo qua sotto e lo colleghiamo dritto dritto fino di la facciamo una torcetta nel mezzo ti vera guarda qui l'energia a manetta dovrebbe illuminarsi addirittura se non ricordo male questo ora dovrebbe funzionare ah voilà il nostro m controller funziona c'ho della pietra a disposizione qui non tantissima 23 pezzi prendiamolo tutti tutti riprendiamo tutti e chiudiamo tutto alla grande ok abbiamo un me controller che funziona abbiamo sotto l'energia exceptor e funziona avevamo già in realtà abbiamo questo per caricare i cristalli andiamo avanti ora bisogna decidere se mettere all'inizio un me chest o un me drive io andrei col me drive cioè andiamo subito pesanti cattivi per farlo abbiamo bisogno di iron ingot ce l'abbiamo e mi cable ce l'abbiamo abbiamo solo bisogno di due engineering processor quindi ci attrezziamo prendiamo un po' di redstone due diamanti un due no un due un due il silicone ne ho già craftato uno stack intero quindi alla grande siri non ti ho chiesto assolutamente niente quindi non puoi partire intanto siri prende parte tipo whatsapp ogni tanto deve salutare se no non è contenta mannaggia mannaggia engineering giusto? era engineering ecco in realtà avere tutti questi all'interno non mi serve a nulla non so perché ce l'ho quattro alla volta però vabbè finchè si staccano a me va bene mettiamo questi qua mettiamo due di questi qua e due pezzi di redstone e siamo a cavallo abbiamo già l'ami drive ora in realtà potremmo fare anche questo qua resistente alle esplosioni sai che è una ficata? cioè è diverso dal solito più che altro il glass cable ce l'ho già non penso cambi qualcos'altro è solo più figo da vedere perché tipo sembra fatto di ossidiana intanto craftiamo quello la base ah non ho lasciato il ferro cacchio l'ossidiana non so se ce l'ho diamine forse questo è l'unico problema non c'ho l'ossidiana vero? l'ho lasciata tutta no l'avevo... sono andato a raccoglierla proprio qualche episodio fa dimmi che ce l'ho l'ho usata tutta l'ho usata tutta o l'ho lasciata nello storage o l'ho lasciata tutta sono due le cose secondo me l'ho lasciata nello storage esatto boom quante ne ho? quattro pezzi non basta mai nella vita faremo quello classico per il momento perchè non vogliono andare a prendere tre pezzi di ossidiana che mannaggia cioè o l'ho craft in qualche modo potrei mettere un po' di lava sullo stone barrel ma non ce lo manco lo stone barrel facciamo che lasciamo stare che dite? lasciamo stare qualcuno mi dà del ferro? grazie e abbiamo signori anche le eDrive che posso collegare direttamente in teoria non ho bisogno di di mettere nessun tipo di cavo vogliamo mettere dei cavi così è più figo avevo tipo un cavo così è più figo? ma forse col cavo è più figo soprattutto poi quando aggiungeremo quelli là accablati cioè rivestiti con tutte le lucine che si accendono facciamo così per il momento allora è vuoto il mio eMidrive è vuoto prima di procedere a fare almeno un drive direi che possiamo fare un terminal allora abbiamo bisogno di un terminal per accedere a tutto ciò che facciamo potremmo fare direttamente il crafting terminal potrebbe avere senso perchè il crafting terminal ti concede ti concede di accedere alle cose ma anche di craftarle ovviamente il mio obiettivo finale sarebbe fare il wireless crafting terminal non è troppo difficile mi serve un wireless terminal sai che potenzialmente si posso già farlo così ho accesso a tutto il mio inventario sempre e comunque mi serve anche questo giusto? sai che non lo so il security terminal serve per il wireless per il momento facciamo un terminal normale tanto il crafting terminal serve comunque il terminal per farlo quindi partiamo dal terminal ho bisogno di sempre un po' di quartz glass che andiamo a creare un po' di glowstone un po' di redstone e un po' di ferro alla grande allora andiamo a creare prima il pannello retroilluminato ce ne da 3 ottimo ho bisogno di un logic processor che non è assolutamente un problema ho bisogno solo di un lingotto d'oro facciamo così uno di silicone e uno di redstone giusto? giusto alla grande poi due ah un formation core e un annihilation core cacchio sti cosi sono sempre un casino non mi ricordo mai come si fanno cosa cambia? uno è charged e qua nether quartz va bene ho bisogno di due flux dust questo è poco ma sicuro che andiamo a fare subito per quello che mi serviva tutta sta storia dei flux crystal ok abbiamo due flux dust ottimo uh missione missione figata ah ho bisogno di altri due logic processor però non ci ho pensato missioni mi sa che ho sbloccato qualcosa dell'albero sicuro eh allora ho bisogno di fare altri due di questi grazie per favore calma facciamo così facciamo così alla grande basta quante missioni guarda quante sono aspetta dove era era su fo su raw esatto guarda quante robe mi ha sbloccato ora farò il terminale non mi sblocca il terminale? no non mi sblocca il terminale però completiamo tutte ste robe sono missioni belle le ho fatte tutte manca un calculation processor e mi dà anche un'altra missione tra l'altro no aspetta questo come ricompensa mi può dare una di queste cose bomba dobbiamo dovremmo esserci ci manca un charged crystal che posso fare tranquillamente eh anzi ce l'ho già e possiamo fare il primo crafting che è il formation core e me ne da due e ora andiamo a fare invece l'annulation core serve un quare un nether quartz uno di questi va bene boom ci siamo ok abbiamo anche il terminale a questo punto voilà boom lo piazzeremo sopra il cavetto possiamo accedere funziona tutto come vedete infatti non è grigio se fosse grigio spento allora grigio scuro spento vorrebbe dire appunto che non funziona nulla invece qua funziona oh toll center termina guarda c'è un botto di spazio di sposizione posso anche scegliere di tenerlo così e allora teniamolo così j synchronized no teniamolo auto search normale auto search keep no auto search e basta ok bisogna inserire qualcosa cioè la nostra struttura ce l'abbiamo bisogna inserire qualcosa qua dentro un m drive qualcosa che ci permetta di tenere le cose all'interno altrimenti un po' un casino ecco se mi consentite poi mi piacerebbe dirlo un po' un casino l'energia ce la facciamo regge il colpo dovrei fare un altro di questi perché guarda guarda come scende l'energia non regge il colpo no che non regge il colpo qui stiamo producendo lava stiamo producendo tutta 80 rf per tic alla grande eppure non ce la facciamo reggere il colpo perché c'è qualcosa che sta sfruttando un botto di energia o ci sono i buffer interni di questi che stanno raccogliendo potrebbe essere so che i conduit hanno un buffer interno che è un po' un casino o è questo che succhia un botto di energia però 8k e non so neanche quanto è 8k e per tic no è un buffer interno non capisco sicuramente più aggiungo memoria più energia vado a sprecare ok ora stiamo guadagnando quindi sì probabilmente era una roba no no ora scende di nuovo non capisco non capisco però sicuramente dovremmo andare a fare altre altre solar panel poco ma sicuro eolico wind c'è qualcosa di eolico davvero c'è c'è che ficata meccanism generator a ste cose ci posso farle tutte questo posso farlo energy tablet posso fare anche questo raga facciamo le paleoliche ma che ficata le voglio vabbè prossimamente me lo segno oh no no lui no è johnsina raga è johnsina c'è johnsina nooo johnsina nooo quello ti vede e muori cioè lo guardi e muori però poi fa un buco della madonna mi vede guardami ok ok lo attiriamo lontano lo attiriamo molto lontano basta cioè speriamo che per futuro io posso volare quindi lo posso attirare via lui si fa i cazzi suoi poi in teoria spero vivamente aggiungerei vieni in acqua vieni in acqua bastardo lo so che sei johnsina infame vieni qua non ce la fai a notare? devo farmi qualcosa che lo pisce a distanza raga non posso restare così a vita con la paura dei johnsina comunque questo non è cresciuto alla fine ecco lì sono cresciuto un botto questo no che faccio ci provo a colpirlo poi scappo non era johnsina che figata non era johnsina ok ottimo ti giuro ogni volta che vedo uno scrive super caricato mi viene l'ansia di orca vacca no johnsina e invece no ottimo allora andiamo a craftare per favore questi super mega drive io direi che per iniziare potremmo fare proprio il primo quindi drive no scusate storage ho bisogno di uno storage cell da un k facciamo quello da un k posso fare anche dello storage housing potrei fare dello storage housing allora per fare uno di questi ho bisogno di ma mi sembra abbastanza semplice fare quello da un k un botto di certus quartz qualsiasi quindi va bene qualsiasi tipo redstone e logic processor quindi devo fare del logic processor un botto di logic processor potenzialmente davvero un botto facciamo uno stack di logic processor cioè sbattiamocene altamente proprio c'ho del silicone a portata di mano così faccio anche l'altro silicone no vabbè allora facciamo mezzo stack così ci lo leviamo dalle palle senza troppi problemi potrei anche fare uno di questi ehhh calculation processor quanto come calcio si faceva eh chi se lo ricorda calculation processor mi serve pur certus quartz crystal eh buonanotte che si ricorda ma sono troppi crafting di sto purcoso non si capisce con cazzo come lo faccio volevo fare un paio di queste acceleration card così va tutto molto più veloce anzi volevo farne quattro potenzialmente posso permettermelo? posso permettermelo ah è la famosa enrichment chamber devo farla per forza allora facciamola un attimo facciamola ok non ho grey plastic a disposizione quindi andiamo a craftarne un po' grazie al nostro super mega meccanismo e prenderemo la grey plastic uno due tre quattro pezzi di grey plastic grazie mille due pezzettini di osmium facciamo così uno e due stil dimmi che ho un po' di stil da parte giusto quattro pezzettini no capo all'apposta dovremmo esserci ti dirò la verità perché questo ce l'ho ormai no manca un osmium ce l'abbiamo ok abbiamo lo stil casing e andiamo a fare anche questo abbiamo un enrichment chamber prendiamo un po' di dust quanti me ne servono due facciamo uno e due bella domanda ha finito lo spazio mettiamo di qua mettiamo ad angolo mettiamola ad angolo prendere questo spazio signori so se si è capito ehm si ci siamo lentissimo come una morte perché non ho gli upgrade da metterci dentro però ci siamo questo posso metterlo con il calculation processor qua dentro a grande amico e ora stesso discorso delle altre cose un paio di siliconi abbiamo due di questi posso fare le miei acceleration card uh missioni 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 un botto di missioni solo una? ehm missioni vai così ok ho quattro advanced card boom acceleration card tutte mie guarda che si vuole ora va tutto velocissimo boom potrei farne ancora un'altra ma non la farò perché non c'ho voglia ehm ok facciamo mezzo stack di logic course guarda come va veloce ora siii di lusso di lusso vai lo senti questo rumore? lo so che non c'è il rumore ma è il rumore del progresso il silenzio del progresso voilà e ora ci mettiamo mezzo stack di redstone e mezzo stack di silicone cattivissimi cattivissimi come l'aglio ora un po' di reston ce l'ho devo fare dei drive saranno dei drive in cui inserirò delle cose e devo avere un po' di questi ma non ne ho abbastanza sono quattro per ogni drive prendiamone 16 ho 16 pezzi di redstone dell'inventario faremo 16 16 e siamo contenti così per il momento poi ovviamente inseriremo la nostra ehm master race verso gli storage della vita per il momento facciamo così facciamo così e abbiamo quattro storage component in teoria potrei fare quello da quattro perchè se unisco tre di questi con un quartz glass e un calculation processor che a questo punto ti dico lo posso fare perchè ho l'enrichment chamber ne facciamo subito un 1 a 4 quel glass ce l'ho cosa mi mancherebbe scusa niente posso farlo un po' di redstone voilà e in teoria niente cioè ci siamo posso farlo faccio così faccio così ho uno da 4k io ho lo storage cell e ne metterò uno da 1k vogliamo mettere uno da 1k ma no che schifo ne faccio un botto da 1k metto un autocrafting moia di lusso ok signori primo drive non le storage dove 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 l'ho messo l'ho perso eccolo qua boom abbiamo il nostro primo storage cell dove posso inserire le cose e io sto volando altissimo molto 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 altissimo altissimissimo un piccolo passo avanti per surri un grande passo avanti per la serie signori ma quanti mob spawnano qui chiamo una torcia basta finito le torce signori per questo video è tutto noi ci vediamo domani alle 7 con il prossimo episodio della serie delle 7 della projecto sono 3 io vi saluto ciao a turuturo tutti